Allora, il lavoro si rifà con la crescita e rimettendo in moto l'economia. Certo, le regole del lavoro possono contribuire. Le proposte sono per ora quanto mai vaghe. Parlare genericamente di contratto unico con tutele crescenti. Quali sono le tutele? Valgono solo per i nuovi o anche per quelli che oggi lavorano? Quindi è difficile ragionare su dei titoli, i meccanismi di entrata. L'apprendistato si poteva semplificare con pochissimo sforzo. Non è stato fatto. L'apprendistato in tutto il mondo è il contratto di inserimento tipico per i giovani, ma non solo per i giovani. Il tema della flessibilità sul posto di lavoro. Diamo risorse ai contratti di produttività. Cioè noi diciamo le imprese che fanno con il loro sindacato dei contratti forti di produttività che possano dare welfare aziendale senza cuneo fiscale, che possano aumentare le retribuzioni senza cuneo fiscale. Quindi cose sostenibili per i conti dello Stato, ma che tengano in Italia lavorazioni che se no perderemmo.